Mai si potrà dimostrare che un euro sia mai entrato nelle mie tasche per un uso privato. Per questo ho tanta rabbia. Questo lo sfogo di Antonello Cracolici nel corso della scorsa legislatura, capogruppo PD all'Ars, per creare la sua posizione, quella del PD, alla luce dell'inchiesta che lo vede indagato insieme ad altre 96 persone nell'inchiesta sulle spese dei gruppi parlamentari dell'Ars. L'attuale presidente della Commissione Affari Istituzionali è uno dei 13 ad aver ricevuto l'avviso di garanzia dalla Procura di Palermo. Insieme a Cracolici ci sono il segretario del PD Giuseppe Lupo e l'attuale capogruppo a Palazzo dei Normanni, Baldo Gucciardi. Ma in sala stampa sono presenti anche altri deputati come Arancio, Panepinto, Cirone Di Marco e Barbagallo. Io non nascondo che questa è una vicenda che mi sta fortemente segnando. Non sono abituato, non mi era mai capitato. L'atteggiamento di chiarire, di avere contezza di aver sempre operato nel pieno del rispetto delle regole contabili, delle regole formali e di quelle sostanziali improntate alla sobrietà, al rigore. Cracolici ammette di aver incontrato delle difficoltà nella gestione del gruppo nel corso della passata legislatura ma respinge tutte le accuse e lancia anche alcune stoccate al presidente della regione che aveva dichiarato commentando l'inchiesta che il passato ci rincorre. Intanto il segretario del PD Giuseppe Lupo annuncia massima fiducia nella magistratura e nelle forze dell'ordine.